E dunque Mattia Compagnon è un giocatore per la Juve, altro arrivo per l'Under 23 dopo Pecorino, forse anzi direi quasi senza forse l'ultimo acquisto di questa sessione per quanto riguarda l'Under 23 e prima squadra, visto che sembra tramontata definitivamente l'ipotesi scamacca, cosa su cui francamente mi trovo d'accordo perché non mi piaceva un braccio di ferro per un giocatore interessante ma che non aveva ancora dimostrato niente. Anche se è un giocatore che potenzialmente potrebbe esplodere in futuro ma non, come posso dire, non ancora subito, mettiamola così. Mattia Compagnon arriva dal Potenza, in realtà il proprietario era l'Udinese, giocatore molto interessante, ha già fatto 15 presenze, una rete e ben 3 assist nel campionato di Serie C quest'anno col Potenza. E' un ragazzo giovane, ragazzo che ha 19 anni, va a unirsi all'Under 23, è un giocatore che ha un po' di dottilità, può giocare sia esterno, sinistro ma anche centrale di centro campo. Quindi il giocatore si aggregerà subito con l'Under 23 di Mister Zauli ed è un nuovo innesto per la nostra Under 23. Allora a questo punto io chiuderei qua questo video, devo ancora far uscire il video che vi avevo promesso sul momento dell'e-sport della Juve, non so se riesco a farlo stasera o domani, comunque un video che uscirà e farò il punto sull'e-sport della Juve. Intanto per il momento benvenuto anche a Mattia Compagnolo. Fino alla fine, Forza Juventus!